Il Consiglio Comunale Cittadino si è riunito questa mattina in un'assemblea straordinaria in piazza Montecitorio a Roma, su iniziativa della conferenza dei capigruppo per protestare contro le misure del Decreto Legge 174 che stanzia per Napoli risorse insufficienti rispetto alle effettive necessità. Simultaneamente nella sede di Via Verdi i consiglieri dell'opposizione Domenico Palmieri e Vincenzo Moretto hanno convocato una riunione per discutere sugli effetti del decreto, che all'unanimità viene giudicato inadeguato. Palmieri ha ricordato che il debito ereditato dalle passate amministrazioni supera il miliardo e mezzo di euro, rispetto al quale i 96 milioni stanziati dal decreto sono una cifra insignificante. Moretto ha condiviso le preoccupazioni sul provvedimento del Governo, annunciando il sostegno parlamentare del PDL ad emendamenti più favorevoli e precisando che a suo giudizio la dialettica del Consiglio Comunale dovrebbe svolgersi all'interno del Palazzo Istituzionale. Noi tutti insieme in conferenza dei capigruppo, ma anche l'intero Consiglio Comunale, abbiamo votato un documento, un ordine del giorno, con il quale abbiamo stigmatizzato le norme contenute nel cosiddetto decreto salvacomuni che penalizzano fortemente i comuni, in particolare quello di Napoli. Noi abbiamo aderito all'invito del Sindaco e siamo pronti a dare il massimo sostegno possibile a qualsiasi iniziativa, non possiamo sicuramente trovarci d'accordo con lui nel portare una manifestazione di piazza sotto Montecitorio. Le cose che vogliamo affermare questa mattina sono effettivamente le difficoltà che ha la città, che ha anche la stessa amministrazione a portare avanti con questo sistema della legge 174. Però dobbiamo anche mettere in evidenza che non tutti i mali provengono dalle vecchie amministrazioni. Dobbiamo vedere se si riesce a fare approvare questi emendamenti, perché se si approvano questi emendamenti molto probabilmente ci sarà più respiro per affrontare il debito. Uno dei principali è quello di spalmare questo debito non sui 5 anni, ma su 10 anni e questo è uno degli emendamenti presentati e che appoggeranno anche i deputati del PDL. Alla riunione hanno partecipato diversi consiglieri municipali, i presidenti di Municipalità Ferrara Ecchiosi e il vicepresidente Zarra.